Attenta amica di un urato, non avvicinarti ai guerrieri jaguaro, sono sempre alla ricerca di attività ribelli e non conoscono pietà. Non ho abbastanza spazio. Mamma dice che l'uaca della cascata si arrabbia se gioco nella grotta. Pensa che sia troppo pericoloso. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Non ci sta nient'altro, 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 non ci sta nient'altro. Non ci sta nient'altro. Non ci sta nient'altro. Grazie a tutti. 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 Non capisco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come sta procedendo.